Io sono una persona diretta, molto diretta, tutt'altro che diplomatica e sono un consigliere comunale che nella sua attività politica riflette queste caratteristiche. Ho al mio fianco Vincenzo Santoro, un artigiano, un maestro nella città vecchia di Taranto. Ci siamo fatti un giro, sono andato a trovarlo anche per fargli gli auguri di Natale e a pochi passi dalla sua bottega siamo nel Largo Gennarini, a due passi a pochi metri da Via Duomo e guardate qui, ora il maestro ci spiegherà meglio, questo è un ipogeo, era un ipogeo, ora è ridotto ad un immondezzaio pubblico o privato a seconda delle interpretazioni, ma in ogni caso, vedete, è un porcile. Allora, maestro, io veramente mi girano le scatole quando sento dire la rinascita della città vecchia, perché intanto parliamo di questo ipogeo storicamente. A te ti va di lusso, perché ti girano solo le scatole e ti va di lusso, no? Ora, tu immagina, come vedi questo qua è un ipogeo terzo secolo dopo Cristo, c'è una colonna d'orica, là in fondo c'è l'altare e qua c'è Tandamoni. Era una chiesa? Una chiesa greca ortodossa terzo secolo dopo Cristo. Tante e tante più volte abbiamo fatto richiesta di mettere qui per terra due paletti, due paletti, ripeto, caro Babbo Natale, che se vuoi… Babbo Natale Melucci, la lettera Babbo Natale Melucci. È chiaro, no? Continuo sempre con la lettera, ecco, caro Babbo Natale dicevo che se vuoi io a spese mie te li metto io due paletti qua con una catena, vada Melucci, sì, che se metto io i paletti qua non li metto come li mettono le ditte che tu profumatamente paghi, cioè nel senso che fanno un buco, prendono un tubo e lo mettono dentro. Bene, questo tubo una volta che si scatena, tac, se ne poi riesce e va a terra. Quindi i paletti si mettono saldando dei pezzi di ferro, codi di rondine e incastrarli per terra. Chiaro Melucci, diglielo quelle ditte che mettono quelle cose. Ditte di quattro soldi? No, ditte che pigliano un sacco di soldi. Perché valgono quattro soldi. Valgono quattro soldi, ma pigliano una barca di soldi e non sono capace di mettere due paletti. Vabbè, torniamo qui. Quindi, caro Babbo Natale, ti dicevo se mi dai l'autorizzazione, perché poi magari riesco anche di beccare la multa, te li metto io a spese mie due paletti con una catena, d'accordo? E ti faccio anche l'insegna, te la faccio bella decorativa. Maestro, occorre ripristinarlo, perché guardate... C'è solo da pulirlo, non c'è da far nulla. C'è solo da toglierci l'immondizia, mettere due catene e magari mettere un vetro trasparente in modo che la gente possa vederla fuori. Così eviti che si butta l'immondizia dentro, d'accordo? Con un vetro trasparente lo si vede. Una pittata alla rescinzione e signori, signori, forse non ci crederete. Taranto costruita su un'altra, Taranto, questo potrebbe essere l'unico ipogeo visibile. Sì, perché tutti gli altri, per poterli vedere, c'è da fare una trafila, c'è da prenotare, c'è da pagare 12 euro a guide non autorizzate a farlo, sia chiaro, non autorizzate, 12 euro col patrimonio che abbiamo sotto. Poi vengono i turisti d'estate e mi chiedono come mai. Ecco, ritorno prima a te girano le palle soltanto, caro Luì, a me girano le palle, ma quello che più è triste è che io mi vergogno, Luigi, io mi vergogno, perché quando i turisti vengono qua e mi dicono, ma come mai? Noi ci aspettavamo di visitare l'ipogeo, come mai la chiesa chiusa d'estate con i turisti, lo sapete bene, quante lotte ho fatto, la chiesa chiusa, non c'è un ipogeo da fargli vedere a questi turisti. Non venitemi a dire le guide organizzate, i viaggi organizzati si fanno con la gente del posto, ma io che sto in crociera vengo qua, ma che cosa mi devo avere organizzato? Devo avere la possibilità di visitare, tante volte lui lasciami finire, scusami dai, fammi sfogare. Perché poi diventa troppo lunga. No, via Cava, sindaco, ci sono quell'ipogeo là, un'imbiangata in via Cava, due fiori e nell'ipogeo metteci degli artigiani come me e li tieni sempre aperti e hai un fiore all'occhiello. Ma quante cose si potrebbero fare con pochi soldi, lui? Tu dici di vendo lungo, ma le botteghe tutte chiuse qua in via Duomo, non si riesce a fare un bando, perché vogliono dare i locali agli amici degli amici, lui? E io sputtanerò, sindaco, ti avviso, appena vedo un locale dato agli amici degli amici sarò prima a venirti a trovare, insieme a Luigi. Davvero mi dispero, mi incazzo quando vedo che altre città italiane, magari con un patrimonio storico, archeologico, modesto, sanno valorizzare pure una pietra che hanno. Qui abbiamo il ben di Dio, il ben di Dio e questa amministrazione di fatto ci sta sputando sopra. Vergogna, sindaco Melucci, vergogna! Fuori grotta, una chiesa con un ipogeo, un anno, due milioni di incasso. Ma di che stiamo parlando? Svegliati, Babbo Natale, ripigliati!